Visita della Presidente della Camera della Romania, Roberta Alma Anastase, in Italia, accolta a Montecitorio dal Presidente della Camera dei Deputati, Gianfranco Fini. L'incontro è servito a ribadire il rapporto di amicizia tra le due istituzioni parlamentari, suggellato con la firma di un protocollo nella sala della biblioteca del Presidente, alla presenza dell'intera delegazione rumena. In particolare si è parlato del potenziamento degli scambi e della cooperazione a livello parlamentare per contribuire a una piena partecipazione del popolo rumeno, quanto di quello italiano, alla vita democratica. Dello sviluppo di forme stabili di dialogo sia per il rafforzamento dei rapporti bilaterali tra i due Paesi, sia per il consolidamento del processo di integrazione europea. E infine della valorizzazione delle comuni radici storiche e culturali per promuovere la diffusione dei valori di libertà e democrazia condivisi da Italia e Romania. Grazie.